Ciao ragazzi un saluto da Luca Di Leonardo di tuttofantacalcio.it In questo breve video andrò ad analizzare l'acquisto da parte della SPAL di Erwin Zucanovic difensore bosniaco classe 87 è un giocatore che sicuramente conosciamo nel nostro campionato in quanto ha collezionato 129 presenze con 5 reti e 4 assist ha vestito le maglie di Sampdoria, Genoa, Atalanta, Chievo e Roma è un giocatore che proviene dal campionato arabo dove quest'anno ha collezionato appena tre presenze quindi diciamo che ha giocato pochissimo quali sono le caratteristiche di Zucanovic? nasce come terzino sinistro quindi come esterno di difesa negli ultimi anni chiaramente è passato a essere un centrale difensivo diminuendo la sua propensione al bonus qual è il consiglio di tuttofantacalcio? in generale sia in una Lega 8 che in Lega 10 o in più numerose sinceramente sconsiglio il suo acquisto perché è un giocatore che comunque non vede campo da diverso tempo giocava in un campionato completamente diverso da quello italiano e la SPAL diciamo che sta lottando per la salvezza ha dei giocatori non tanto appetibili fatta calcisticamente come Cionec, come Vicari, come Tomovic forse l'unico un po' più affidabile è Bonifazi quindi Zucanovic potrebbe giocare titolare o potrebbe subentrare a questi giocatori quindi non è un titolare gioca in una squadra che comunque sta lottando per salvarsi non sappiamo lo stato di forma quindi il nostro consiglio è assolutamente di non acquistarlo almeno in questo mercato di riparazione se poi avete la possibilità di avere un ulteriore mercato successivamente si potrà valutare in seguito un eventuale suo acquisto vi ricordo ragazzi di iscrivervi al nostro canale Tutto Fantacalcio se vi è piaciuto questo video lasciate un like un grosso saluto dallo staff di TuttoFantacalcio.it ciao ciao